Senatore Divina, dopo i casi che sono avvenuti, l'ultimo dei quali in Australia, qual è la situazione di sicurezza per quanto riguarda il terrorismo nel nostro paese? Quello che noi rimproveriamo al nostro governo è che non si parla di Libia. Tra Benghazi e Tobruk si è insediato un califato, un capitale insediato a Derna, e lì ci sono qualche migliaio di fondamentalisti che hanno organizzato questa loro nuova amministrazione che si rifà il califato dell'Isis, però sono sull'altra sponda, diciamo, di fronte a casa nostra. Hanno dichiarato di voler arrivare fino in Italia, ma questi arrivano non per far vacanze, sicuramente non per far turismo, e il governo di questo, diciamo, elude molto, anche alle domande dirette in commissione congiunte oggi, insomma, sul caso Libia si preferisce soprassedere. Per noi, per noi italiani, il caso Libia forse è il più importante, l'Isis, la rete di network, e, diciamo, gli stati che si rifanno, movimenti fondamentalisti e terroristici, sono una minaccia per, diciamo, tutto l'Occidente, però sapere che ce l'abbiamo di fronte a casa, per noi, insomma, non possiamo stare troppo tranquilli. Per quanto riguarda la missione in Afghanistan, ha detto che diminuiranno le truppe, siete soddisfatti? Sì, insomma, avevamo un migliaio di persone, adesso si dice che ne resteranno 650, con funzioni soprattutto addestrative, il tutto dovrebbe però finire a circa metà luglio. Speriamo che non succeda altro, che gli americani prendano in mano la situazione, perché loro hanno ancora una funzione, diciamo, combat, mentre la nostra ha più di supporto, infatti si chiamerà, ha un nome inglese col termine Wrestle Support, e, insomma, noi non vediamo l'ora che i nostri soldati tornino a casa, perché lì la nostra, diciamo, funzione è, fra virgolette, anche terminata. Non abbiamo sconfitto il sistema talebano terroristico, però non possiamo nemmeno permetterci di tenere il nostro esercito, insomma, per sempre in luoghi così distanti, con costi altissimi, che tra l'altro oggi non potremmo neanche più sostenere. Grazie.